La città di Varese e le sue zone circostanti sono state colpite da un violento nubifragio che ha causato gravi disagi e danni generalizzati. Le forti piogge, accompagnate da raffiche di vento, hanno abbattuto numerosi alberi e allagato diverse strade, creando situazioni di emergenza che hanno richiesto l'intervento immediato delle squadre di soccorso. Ma raga è crollato davanti a me. Mamma ho il cuore in gola raga. Mamma mia. Vabbè, adesso vedo cosa fare. I primi episodi si sono registrati intorno alle 3 del pomeriggio, quando i residenti hanno cominciato ad accorgersi dell'intensificarsi della pioggia e del vento. In breve tempo, le condizioni meteorologiche si sono deteriorate, con piogge torrenziali che hanno trasformato le strade in veri e propri fiumi. Molti alberi, indeboliti dalle raffiche di vento, sono caduti su strade, veicoli e infrastrutture, bloccando il traffico e rappresentando un pericolo per i passanti. Unisciti a noi per rimanere aggiornato sugli ultimi eventi in tutto il mondo. Le aree più colpite dal maltempo includono il centro di Varese e le sue periferie, dove l'accumulo di acqua ha reso molte vie impraticabili e ha causato danni significativi a edifici e abitazioni. La caduta di alberi ha anche danneggiato linee elettriche e infrastrutture pubbliche, causando interruzioni nella fornitura di elettricità e altri servizi essenziali. I vigili del fuoco sono stati immediatamente mobilitati per affrontare l'emergenza, intervenendo in vari punti critici per rimuovere gli alberi caduti e ristabilire la circolazione. Le operazioni di soccorso sono state rese difficili dalle condizioni meteorologiche avverse, ma grazie al rapido intervento delle squadre di emergenza è stato possibile evitare ulteriori danni e garantire la sicurezza dei cittadini. La protezione civile e i servizi comunali stanno collaborando per monitorare la situazione e fornire assistenza a chi ne ha bisogno. Sono stati istituiti punti di raccolta e informazione per coordinare gli interventi e offrire supporto logistico ai residenti colpiti dal maltempo. Le autorità locali chiedono alla popolazione di limitare gli spostamenti non necessari e seguire le indicazioni dei servizi di emergenza. Questo evento meteorologico estremo sottolinea l'importanza della prevenzione e della gestione dei rischi legati al maltempo. Varese e le sue aree circostanti sono già state colpite da eventi simili in passato e l'esperienza accumulata ha permesso di organizzare interventi rapidi ed efficaci. Tuttavia, l'intensità e la frequenza crescente di questi fenomeni richiedono un costante aggiornamento delle misure di sicurezza e una maggiore attenzione alla manutenzione delle infrastrutture urbane.